Oltre all'alternanza a scuola-lavoro c'è un'altra possibilità per gli studenti delle superiori di fare una prima esperienza di tipo professionale e l'apprendistato di primo livello. Il servizio di Francesca Pietrobelli. Io sto preassemblando un portamozzo, un gruppo ruota che andrà montato sulla nuova vettura Formula 2. È stata un'esperienza indimenticabile perché ho imparato tante cose sia dal mondo del lavoro, della serietà e anche dal mondo scolastico. Lo studio è importante, è alternato al lavoro ancora di più e diventa anche molto più piacevole. Sono alcuni dei 20 apprendisti di quarto e quinto anno dell'Istituto Gadda di Fornovo di Taro che per alcuni mesi, lasciati sui banchi, libri e quaderni, indossano la tuta da operaio e si spostano nelle otto aziende pronte ad accoglierli. Un intreccio concreto di scuola e lavoro. Lo studente assume anche la connotazione di apprendista, di impiegato, operaio, assunto dall'azienda. Mettiamo in campo soprattutto risorse umane, cioè le persone, i nostri capireparto, i nostri tecnici, i nostri responsabili, noi stessi. Gli apprendisti firmano un vero e proprio contratto, guadagnano per le ore al di fuori dell'orario scolastico circa 4.000 euro l'anno e sono seguiti da un tutor sia in azienda che a scuola. Partono, diciamo, da un livello base e vedi veramente nel giro dei mesi di lavoro una crescita veramente esponenziale. Il diario di bordo serve a dare, praticamente a dirci quello che i ragazzi fanno in azienda. Leggendo questo diario riesco anche a capire quello che hanno appreso. L'esperienza è sicuramente da fare, che mi ha cambiato completamente la mia vita e mi ha permesso di capire effettivamente nella confusione che c'è nelle scuole superiori cosa voglio fare nella mia vita.